Ciao ragazzi, benvenuti, siamo qui a splattare tutti insieme Peraltro Mike accettami la Stream Squad, così siamo anche tutti quanti in Stream Squad E il godimento straordinario Mi sento basso Zabaco, come mai? Ma lo sentite anche voi più basso? Sì, l'ho alzato a 200% infatti Ok Aspetta Ok Alzato anch'io a 200% sì, mi sembra un consiglio giusto L'errore è stato alzare voi a 200% infatti sono morto La voce squillante è sicuramente anche molto alta La nostra potenza vocale Oh mio dio, questo è un altro che devo passare Fra, guarda un attimo Whatsapp e poi mi dilegua Oh ma c'è la regia, la regia Sono comunicazioni oggi Comunicazioni, servizi Aspetta un attimo che rispondo, sì ma oggi no, sono per i 12 Che farò, che farò roba io qua Farò il pagino Non credo Non credo Gabri Chirenis Mi devi scusare perché probabilmente ho detto male il tuo nome nelle storie No no no, ma Chirenis Chirenis non sono nemmeno io Quindi è libera scelta Allora mi piaceva Chirenis che era un po' tipo esodico Eh, no sì, infatti, sembra un po' tipo È vero Meno male, vai, mi hai tolto un peso, perfetto No no, è perché è un nick che mi porto da troppo tempo E ormai è troppo tardi per cambiare, infatti Però va bene No, no, ma è bello, eh Grazie Però, vabbè, c'è la doppia pronuncia C'è la doppia pronuncia, va bene Comunque, siete pronti o siete carichi? O siete entrambe le cose? Siete prontari? Sì Super segreto Allora Allora, aspettate un attimo che Voi ce l'avete già in privato? Che significa? Il codice? Sì Me l'hanno tipo passato, credo Me lo potete ripassarvi su WhatsApp, Roby Ok, te lo faccio avere Allora aspettate No, me l'abbiamo passato, ma Siamo tutti team Sasso, vero? Sì Ok Questo è importantissimo Allora aspettate che faccio un attimo la lobby Ah, no, ma la lobby l'ho già fatta? Non è vero, non l'ho fatta Aspettate Ok, c'è problema, la fai adesso Che la faccio Ci divertiremo parecchio oggi Ci divertiremo Siete bravi con gli FPS? Non incapaccio Sì Guarda che ci sono comunque armi corpo a corpo, eh O comunque cose abbastanza avvicinate Adesso ci facciamo proprio un discorso al riguardo, ok? Fatemi un attimo fare la lobby che non so perché si è tolta Ok Potete entrare a partire da Io ho ancora un minuto e quindici di pre-show Con calma Sì, ma intanto io faccio tutto quanto in discussione, ok? Ma infatti questo è una bella premia Perfetto Un po' di introduzione Perfetto La lobby c'è La lobby c'è Quindi possiamo partire con la spiegazione Allora ragazzi, oggi siamo in quattro Ci faremo un po' di mischia mollusca Cominciamo a oleare gli ingranaggi su Splatoon 3 Che tra l'altro è già preordinabile Da oggi Ma insomma da vari giorni sull'e-shop E oggi c'è la Splatfest Quindi uno sbircino al mondo di Splatoon 3 A cosa è cambiato? Nuove armi Abbiamo la Splatana Che in realtà in italiano si chiama Tergi Lama Sì, molto più bella Splatana che è una katana ma splatta Abbiamo varie altre armi nuove Come il Tri Calamarco Che dovrebbe essere un arco che spara tre frecce Io l'ho provata entrambe qualche giorno fa In un'anteprima che abbiamo fatto il 23 qui a Milano E mischia mollusca Giocheremo quattro contro quattro Vince chi splatta più colore proprio sullo stage Perde chi invece ha colorato poco Detto questo siamo in quattro E dobbiamo cominciare subito a ragionare sulla team comp Perché signori miei Se qui qualcuno non usa il beniamato rullo Ce l'ho io Tu rulli? Rullo Minchia la goduria ragazzi Del mio ruolo Cioè nel senso quando hai il rullo Allora senti Io ti parlo da giocatore for fun dei vecchi Splatoon Quindi non ti sto a fare la strategy per vincere No 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 Di sicuro for fun Panoramica base Sì ma il rullo deve innanzitutto coprire la nostra zona del campo Tu sei addetto a colorare Ok devi colorare bene la nostra base Tutti i dintorni Fino a che a un certo punto non si difidirà la metà campo Ok? Sei un difensore Sei lì colpiscimi lì Ammazzi che si avvicina dalla nostra parte Colori bene tutto Perché se no rischiamo di perdere Perché magari abbiamo conquistato tanto della metà campo avversaria Ma la nostra base È colorata de merda Capito? Ok ok Quindi se tu adesso sei Ora non so Entrate innanzitutto in lobby Che così ci vediamo Dai cominciamo Come si Allora Ok Allora qua lascio questa Il codice dovrebbero avervelo dato dalla regia Oddio Ok do un'occhiata in privato allora Qui io utilizzo lo splasher Arriva Ok fantastico Ok ho risolto Come? No io mi sono fatto un po' di personalizzazione un minimo Bravissimo c'hai già l'elmo tuo Esatto Perfetto Esatto Allora Questa è la donna dei tuoi amici e poi anche estrare Praticamente se guarda su società di amici dovrei vedere la tua lobby Daniele basta disattivarlo il giroscopio e magicamente non funziona Ah oddio ma il fatto che si muove con il pad lo posso disattivare Assolutamente sì Grazie Fallo Menu opzioni disattiva giroscopio e non lo attivare mai più Questo è il tutorial iniziale di scuola torna Allora sei No no ragazzi io non riesco a giocare con il giroscopio non mi scrivete allenati con il giroscopio Non lo farò mai No è impossibile ragazzi Ragazzi non dovete neanche permettervi Mi dirò un gamer una cosa Neanche permettervi Possibilità a sé Sono un po' complicato all'inizio infatti Però penso che in competitivo come giocano Penso col giroscopio ma non me ne frega niente Non voglio giocare con il giroscopio Non siamo pronti per una cosa del genere Oh mamma mia un'altra cosa meno male Ok in solidaria società amici partita privata raduna ai due amici Appena entra Chiara cominciamo No ma infatti ragazzi è tutto un grande scherzo come Watchmen Sappiamo che nel competitivo usano il giroscopio ma noi non riusciamo neanche a percepire quell'idea Ragazzi Ragazzi no Mi faccio prendere dal panico muovo le mani e tipo sto mirando da qua No no esatto esatto Ah perché non l'aveste compreso il giroscopio significa che la levetta destra quella che è utilizzata classicamente per la camera viene sostituita dal movimento del controllo delle mani ragazzi Esattamente È una roba terrificante per chiunque abbia vissuto giocando in un certo modo Non lo dà perché È una terapia d'urto magari da fare ma non la faremo oggi Consigli dal pubblico partita tematica non privata Aperta Attacco Questa sarà Oh finalmente madonna ce l'ho fatta Ok let's go Con il codice ok E ora abbiamo messo il codice Esatto Ripa Aspetta no lo ritrovo io Lo ritrovo io Non tranquillo Che tricks Scusa Non l'ho mai fatto Sono un po' spazzata Tranquilla Yes Dovrei Dovrei apparire a breve Siamo pronti Eccoti Allora scegli la Vabbè l'arma in realtà l'hai già presa Però se ne vuoi prendere un'altra basta premere più E c'hai tutta la lista delle armi Scegli ciò che più ti aggrada Sono veramente Va bene Sono tantissime Io partirei con la base che hai E poi vedi Allora tieni premuto a Allora tengo premuto a Che f***a ha fatto che ci siano armi così diverse Porca miseria Ok stiamo cercando un avversario Signori Allora Allora Kirenis È tipo una torretta di loll Sì 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 ho provato Quindi facciamo una win streak Allora chi è sta gente Allora pubblico Dovete ovviamente tenere il conto di quante ne vinciamo e quante ne perdiamo Mi raccomando A partire da ora Ne perdiamo Vabbè questa è la prima di prova Dai no 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 questa è quella dove vinciamo Va bene Va bene Allora Allora vai Splattiamo tutto Vai Kirenis siamo nelle tue mani E la vogliamo avere blu Non mi pare troppo cattiva Capito Mike ti copra Ti so che Guardate che Ma si è riattivata il giro Sono morto Sono morto No sei tu morto Vendicato Mi hai vendicato bella Sì Però abbiamo già sfondato bravo Mike Bravi bravi Mi raccomando Attento Kirenis che c'è una parte della base nostra Non morgiano Ti si tovano qui dopo torni indietro Ok ok Ma questo che fa All'arco questo No via 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 Stava fermo L'ho ucciso Mi ha imploso Anche i forzi Perché gli dici una bella bomba Ok Sono l'ultimo E' carino un po' di petto Sì che po' di petto Oh cazzo questo Al bastion Sto arrivando Al bastion Come si fa salire l'ho preso l'ho preso l'ho ucciso Ok Se non posso scoccare la parete Non sto capendo manco io come cazzo salire Alcune pareti Aspetta lanciamo una bomba Ok ne ho ucciso un altro Buono Dove cazzo saliamo È troppo forte Bisogna salire sopra la grata E fare il giro Ah qua non si può salire infatti Bisogna fare il giro Eh Bru Eh niente Mi spiace Bru Ok Vabbè qualcuno prenderò Aiuto Ok ho capito come salire Bisogna salire questo Ah sì Ah ok esatto bisogna tornare indietro Ok goccia Guarda che re Come cazzo non la capre tutto Cioè sta con lo scopettone Fare la bidella della scuola Ti giuro ho sempre voluto fare il bidella Ma certo Ne ho ucciso uno ma sono morto Ok Non c'ho più le bombe Perché dove Cioè mi dice di cario Dobbiamo salire da mid Grata Sopra E andiamo C'è ancora un pezzo Della nostra base Completamente non colorato Ah sì Allora aspetta Dove si avrebbe una mappa Vai 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 Con un letto Oh aiutami Sto uccidendo Il level design I don't get it Bisogna salire Come rulla Aiuto Che sono morto meglio Così torno indietro Perché mi sono perso Vabbè oh dai Ci abbiamo un bel po' di roba Un grande Un grande Questo con l'arco Un grande Ah ecco il pezzo di base Che non è ancora colorato Ok Eh sì Vabbè vabbè Sereno sereno Oh io mi sto infiltrando Come uno stronzo Ci sto già lavorando Mi stai infiltrando Bene così Io sì Quindi Come si deve tornare Dai dai ma ce l'abbiamo fatta Cioè questa è vinta Dai me la sento Lo so Non lo sai? La nostra base è completamente colorata Sì sì Sei stato bravissimo No Dai 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 Vediamo un po' Sì Ok ok Dai sì Spaccati veramente Dall'allè Quasi il 60% Grande Il godimento Mi dicono che forse eravamo 4 v3 Effettivamente non ho visto uno fermo Un certo punto Ma io così Vabbè Vediamo un po' Proprio che non cammina Non lasciate A Ditemi quanto siete kill Io faccio 8 kill 3 morti Allora All'inizio appena Eh mi è andato avanti Beh lo vedrete tra poco Ah ok Bonus battaglia Buono 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 Rega buono Abbiamo vinto una battaglia per 10 Non so cosa voglia dire ragazzi Però bella Si fa ora 5 kg Una morta Ma ho fatto pochi punti Ma guarda Mike 5 kg Una morte Il godimento ragazzi Il godimento Però Va a vederlo Guarda Quanto è splattato Non siete arrivati alla schermata vittoria sconfitta? Sì 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 ora ecco Non c'è un modo per vedere quanti Non so i metri Penso sia il punti Penso che i punti siano l'inchiostro I punti sono l'inchiostro Eh quindi devo inchiostrare di più Allora secondo me Mi hai fatto a uccidere allo stesso tempo Anche inchiostrare di più Visto che io ho fatto tutto largo Eh allora Certo sono stati più forti Diciamo che mi sposto un botto Però cioè Ho giocato Credetemi qualche ora più di voi Cioè vedrete che alla fine di questa giocata Anche voi fate questi punti Anzi cioè io faccio abbastanza cagare in vero Però Siamo stati bravi tutti secondo me E Chiara come ti sei trovata con l'arma? Bene bene Era l'unica che avevo provato Quindi è ok È abbastanza base Quindi È abbastanza basic Potrebbe esserci Qualcosa che ti piace Chiedo Chiedo in chat Magari però Perché questo non lo so davvero Cioè mi viene da dire di sì Empiricamente Cioè empiricamente Teoricamente Ma empiricamente non ne ho idea Il rullo Deve fare più punti degli altri Cioè deve finire A millemila punti Perché è un rullo o no Forse anche le kill contano Nel punteggio Ah non lo so Non lo so Forse è un punteggio totale Proprio di tutto Per il rullatore Mi dicono salta e spara Per attaccare a distanza Sì 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 Quello l'ho notato già E qualcuno è uscito però No Eh sì Qualcuno non l'ha fatto continua No aspetta Io devo ancora fare cose Infatti siamo complate Ah ma buttato fuori Eh vabbè Allora questa la famo noi E poi Li ripeschiamo Però Poi dobbiamo togliere la lobby E poi rifarla Sì è rimasta nella schermata Vittoria 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 Però non ho problem Eh vabbò Ah poi devo ritogliere questo Perché me l'ho rimesso Non ho tenuto idea mai No no Cerchiamo sempre di Prenderci le parti alte Mike Esatto esatto Anche vi dobbiamo fare Il famoso piscio a palombella Da sopra Sì ma devo capire Come tornare qui Di cercare Soprano coloro Adesso Mi muto un attimo Così posso fa Via 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 È andato troppo deep Madonna mia C'era qualcuno con la ulti Vaffanculo Qui c'è qualche stronzetto Che mi sta Cos'era quello Mike Niente Niente L'ho visto la mia chat Ma morbare Hai visto la tua chat? Ho ucciso uno con la granata Alla cieca Ho fatto la codata Io sono infiltratissimo Comunque Eh bravo Io invece ho preso due morti In culo Ok E devo riprendere Un po' di Mi ha ucciso C'è qualcuno in base Che mi ha ucciso Che sta colorando un bel po' Si chiama yeah Merda ora muoio Cerco anche Eh sì vabbè Però ho dato dai Qualcosina ho dato Ho chiesto troppo Ah in ulti Oh che l'ho ucciso Eccolo Cerco di acchiappare pure questo Preso Ah Vai Mike Ci stiamo dentro Yes Attento dietro Ok 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 ci stiamo Attenzione alle bombe di questo Attenzione alla granata Ok l'ho ucciso Andiamo avanti Grande Siamo liberi Andiamo in avanscopo Amico mio Bravo bravo Mike Guarda come siamo dip Come dei piselli pazzi Bravo Ancora ancora Attenzione Preso Bravo bravo Vai avanti vai avanti Splatta splatta Splattagli tutto In culo Ah C'è un in base Che sta rompendo un po' Arrivo No in realtà ce ne sono tre in base Madonna mia Eh annultato Ok uno l'ho ucciso ma son morto anch'io Ok io sto in difesa eh Che qui la vedo brutta Se no Anzi splattato qui l'ho ucciso Sei stato splattato Ok non ci sono Ok C'è con i multi Buono 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 Ok io ho dato ragazzi C'è E' ancora io questo Ok non sta qui Anche se Di ultimi dieci secondi Io potrei sparare in base Bene 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 Ci provo rega Ma secondo me questo è perso Cazzo Ah Dipende in attacco come stava messo il colore Vediamo Mi sa che loro Oddio non lo so No di poco loro mi sa Eh no Ma invece no Ma è anche parecchio Eh rega Stavamo giocando bene secondo me E che alla fine quando sono morto Si sono ripresi la base Io avevo preso un sacco di granate Tutto blu era Cazzarola Ci dicono in chat Ricordatevi sempre di colorare la base Sono centimetri importanti Però credo che fosse colorata eh Ma no non è il problema della base La parte iniziale Quando erano in attacco Probabilmente dovevo infiltrarmi io E colorare più a lungo possibile Perché erano tipo in tre in avanti Quindi potremmo Fate esci Fate fine Rifaccio la lobby Ok Chiara tu pronta a entrare eh Vabbè non c'era chiara Per questo abbiamo perso Io ho fatto 4-4 Hai capito sì come funziona Ecco mi ho fatto un po' di prove armi Bravo Mike Subito 6-2 Minchia Ok adesso esco perché Allora quindi rientro nella capsulina Ok come si Aspetta però che devo fare la stanza Come si fa uscire da qui Fine Basta che fai fine No ma se non ho fatto fine Oh no non lo so Ok No ci sono qualche giorno di prova per la demo se non sbaglio fino al 4 settembre No 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 alle 10 di stasera finisce Cambia come Ah allora che era il 4 settembre Vabbè Niente quindi solo oggi Ok Solo oggi ragazzi Esco e rientro dal gioco a sto punto A cambiarmasi brava Schatti tutto Sì Chiamami quando c'è la lobby Eh lobby Prenderò questa penso Ok Vuoi lobbare amico mio Lobbiamo E lappare anche oltre a lobbare Oh wow che carino Questo Eh io io intanto leggo i consigli in chat che sono Dai Si il role è questo Allora invadete la loro zona iniziale per fargli perdere tempo Allora sicuramente io e Mike siamo gli addetti alla penetrazione Noi dobbiamo fare il penetro Blink blink Eh No no ma era proprio Non era un doppio senso Era un unico senso Esatto Ti scaricatelo subito perché solo oggi Solo oggi potete giocare Eh senti l'hai fatta la La squadra cioè la lobby La lobby si si fatta fatta Ok Ok servirebbe il codice nuovo adesso Ah si Ah si Ah sempre quello Il codice Sempre quello Eh certo Ah ok Comodo comodo Eh c'hai ragione Ferdi Io uso poche granate Prima c'era Chiara che mi cocciava facendo bomba 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 Che me ne scordo in continuazione C'hai ragione Fe Dovrebbe essere Bene 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 così Bene così Ok Andiamo avanti Ok Remote madness No ma non la mettete raga No no voglio i consigli Niente emoticon Fammi un piacere Aumenta lame assist Che cos'è Aiuto della mira Non aim assist c'è E si può fare Si può fare Cioè è legale Cioè è legale Si può fare Spera dove si va Però mi dice che Ormai non si va Perché siamo Dopo Eh bravo salvo Vedi a guardare le storie Bravo Ok Gli ero convinta fossero più giorni Invece no Nello spogliatoio Ok allora prima di Di andare in colla La prossima volta Per rompere all'inizio È comodo avvicinarsi Velocemente al campo avversario E lanciare delle bombe Eh certo Certo Va bene Mike Avant scopo E bombe Le basi queste Esatto 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 Ok Abbiamo una win Una l'ho Vabbè quella di prima Non contava però Vabbè quella di prima Sarebbe contata solo se avessimo vinto Esatto Ma infatti no Siamo contro mister sfatto Davvero Davvero No mister safto Scusate Ok Mister fatto Allora ma è che io vado a sinistra O tu a destra ok Ma io a destra non so come salire Ah ok ok Allora vado io a destra Ok Ci rincontriamo a Godopoli Kai Renis Sempre con lo scopettone Stai tu Sì 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 Ok Ma è chi Renis o Kai Renis È indifferente Sparato Io lo chiamo Kai Renis Posso chiamarti Giulio Potete chiamarmi anche Francesco Anche se non mi chiamo Ok Va bene Ok avrò tolto questo Giulio va benissimo Guarda che ci sono furbetti che stanno facendo Ah ho fatto lo splatto Scusate Bravo Bravo Sei a tirare le bombe No brava Chiara Non so tirare un cazzo C'è due chiare che ti Ecco esatto Ho spiegato la bomba Me la so tirata in culo la bomba No La granata alle spalle mi ha ucciso Ok Però ero in base Adesso ci do Di granata Tu devi splattare con quel Coso Coso lì Insomma Il rullo Rulla Io sto rullando Ok Vai in pista Vai in pista A nessuno Allora Ma questo che fa Ok 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 c'è uno In base Che sta un po' rompendo Eccolo Valordo Via Ok No via Lasciami stare Ho fatto veramente una cazzata Che bravi Signor panchetti No di dietro Valordi Ok raga però stia Oh merda C'è un tizio col pennello Super stronzo Pancake Quello che mi ha appena ucciso Ok però dobbiamo Io vado a push a ragazzi Perché non stiamo pushando un cazzo No io sono stato buttato indietro Troppo ma adesso O eccolo qui Ecco le rullini Ok è morto e morto Lo ucciso Sì però devo andare Eri fullo Eri tranquillo Pensa ad attaccare Lascia qui a me Figo però Qualca miseria Aspetta che c'è Ma mia Possibilità Dei analogici Mamma mia Mamma mia Dai chi li vinciamo C'è qualcuno qua in base Ti sta facendo col pennello Le cose che forse Vado a fare il signor Puscelli Ma donna in plosa Proprio Anche Spennellando Un po' troppo Sì no E lui che ci sta facendo perdere Che fa questo Oh no Sono stato Quasi quasi mi infiltro No no Io sto facendo Il super infiltro Rega No lui deve smetterla Infatti lo fa Glielo fatto L'ho fatto Smettere io Ti dò una mano Ci sta Mi vedendo Cioè Io sto andando Super deep Ragazzi sto Permette Sì ma sto Pennellando Contelli Sì ma Bisogna difendere Anche la base Ti raggiungo in base Ora Mi chiamo Sono il mostro Scassi Eccomi Godo Godo Tantissimo No No Madonna Giollo Eh ragazzi Qui ho fatto La penetratium Z Sempre Vale Sì sì La penetratium Z Z È importante La Z Ah Z È importante Sì sì È importantissimo Cambia giù Ah ok Uno per uno Sì a meno Eh vediamo Dovremmo avercela fatta Ma che punti Sì Perché secondo me Abbiamo fatto Sì ma anche secondo me Perché ho difeso la base Ho davvero difeso la base No Qui su Super penetrati Secondo me Sì 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 Allora io Direi di fostere completamente L'organizzazione del torneo Del 16 Perché qui si sta creando Una squadra Una squadra sì Affiatata Questa deve essere la squadra Troppo bella la posa Del pennellone Non ti permettere Fra Giustamente Noi siamo i penetrati Il team si chiamerà così Sì 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 Più carino Più carino di Splatacu Se posso permettere C'è capito Penetrazi un 3 Continuo eh Mi raccomando Che figata Che figata Non ho visto il mio Ok sono ancora in team Tu hai fatto 6-2 Io 9-2 Quanto ho fatto io? No 6-2 Ok quanti punti? 819 io invece 721 Ok ok Comunque siamo andati tutti bene Ma voglia Ma è bellissimo il pennello Ti giuro È una cosa più Pennello Ma quanto lo possiamo vedere dal menu battaglie Regà che stupido Ah sì? Sì mentre siamo in coda Premiamo L Poi R E lo vediamo Ok il game di prima Ok ok Guarda là Oh bravi tutti Bravi tutti Mamma mia Inting Ragazzi lo potete scaricare gratis E preordinare sull'e-shop Yes No ma è qui Qui si rischia veramente Di nemmare Forever Dio guarda loro Rossi Carino e rosso Ma siamo sempre blu Noi siamo sempre blu È random Sì dovrebbe essere random Ok Si fa il let's go Si fa il let's go Si fa il let's go Mannaggia al cazzo Si arretra Si arretra Ok ok Oh ma l'ordo Ma quello l'ha ucciso Bravi Io Sì ma lo Ci spatterete Merdacce Bravo Mike E lo ricarica Oh no Mi ha ucciso Oddio Ma qua è difficile Prenderla mira Questo Guarda ma che c'ha Un granchio Eh sì C'è la ulti Ah è la ulti Sì No devo andare più deep Ragazzi Ma stai a spenellare Cazzo E' la base La base qui è un po' spoglia Sì 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 Sto ci sto lavorando Guarda vedo una parte sporca Che rende Dovessi licenziata Da sta scuola Merda Ha ultato Cazzo Si stanno coprendo bene Loro eh C'è il tipo con l'aereografo Che ci sta Che ci sta Fisciando in testa Finisco di pulire La parte spoglia Vado verso destra Vediamo se riesco Via 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 Oddio mi stanno cedendo tutti No merda No me stanno Dio Ok panico Morta Picasso Giustamente Giustamente Molto divertente Scaricatelo Perché tra l'altro È gratis Quindi ci potete giocare Gli amici Fichissimo Io ho sentito Un suca del deserto Bellissimo Ok all'alti Madonna Quello Costa ulti C'è Oh ma questi ci sono arrivati In base ragazzi Eh si è Ma infatti Devo fare il pusceroni Si stava pensando Sto pushando Come se non ci fosse un domani Io sono La mia La loro base La mia adesso Bravo Questo è Vado proprio bene Ok a difendere qua Però c'è ne uno Che deve morire Sennò non posso Fare il mio lavoro Guarda qua È pieno Eh non riesco a chillare Questo cosa Loro Se provo a dare una mano Una mano Eh fra che volevi Sparco qui dove non c'è nessuno La tibetta Grazie carina Ok ucciso Buono Eh mi hanno ucciso Adesso Mi uccidono sicuro Ok però ho preso una kill Ma che cosa È la musica Eh Penso che qui sia fatto un po' di Per Dazium Z Mi sa che Splatoon è il mio gioco Ho colorato abbastanza Verso la fine Ma che cazzo succede Abbiamo fatto Del perduto di sodio Yes 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 Ah no oddio 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 Beh Ragazzi Voi non avete idea Di cosa è successo Nella base avversaria Dai Che poi quando crepi Puoi spawnare da un compagno Io sono spawnato da Sabaku E ho colorato tutto al centro Ah figo Quindi se scegli dove andare Un consiglio da chi è vet Da Splatoon 1 Perdete qualche secondo A colorare tutti gli angoli E le pareti È vero È vero Perché contano E quando il team avversario Penetra alla base vostra Non potrà coprire tutto A volte sono percentuali Che fanno la differenza È vero Sto d'accordo Ragazzi in chat La mia ulti serve È difensiva È tipo Io e Mike Siamo turgidi eh cazzo Porca puttana Siamo veramente turgidi Perché non mi fa vedere Vabbè io faccio Ah ok Continua Ora vai Quando vedete La scritta pericolo Sopra le icone Del team avversario Vuol dire che lo state distruggendo Ok Quindi si gode È il godicolo Ma è Attivo sto coso No non la posso più cambiare Ok Questa è la R Sì sì Ora l'ho visto come si fa Ho capito Dove avevo sbagliato prima C'è un tempo Per Prima e continuare Niente di Che Non serve a colorare Insomma Dai dai rega Chiedo in chat Perché ci chiedevamo Dalla regia Se alle 18 Questa modalità sparisce Ma non è così Vero Non dovrebbe sparire Eh c'erano dei cambiamenti Ma forse no Non sparisce Tra l'altro ha vinto il team Forbici se non mi sbaglio Sì Loro tre Loro tre Se battiamo questi Se battiamo questi Rega Passiamo il resto della live A ubriacarci Andiamo Distruggiamogli la winstack Per favore Mike Andiamo Sì Let's go Minchia c'è Kiro Un cieco Porca di quella L'ho ucciso Non è vero Sì l'ho ucciso adesso Bisogna Non ti preoccupa Lascia qui Sento Mike Tira una bomba Ah cazzo scusa Ops sono andata nell'acqua Sono la ultima Sono la ultima Vai Andiamo Mike Vai E le pareti non sempre Ok preparati che ce n'è C'è uno in base Oh ce n'è uno in base A baloni Sì Ah provo a prenderlo Ma come lo pigliamo questo Mike Allora E lui sarà scuso Il ragazzo si sale Lui sta venendo Il tuo base è brutto eh Dai Eh ma lui è tosto Gli possono c'era una granata ma Eh sì Queste macchietti qua devono sparire Sono morti Sono morti Ok 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 Anch'io Mi sa che non si può eh Prendergli quella parte lì Noi dobbiamo un attimo Riprendere casa Sono d'accordo Eh sì regà Ok 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 uno è morto Pure quest'altro Easy Easy Ok buono C'è una bomba Devono indietreggiare Buono così Attenzione alla bomba dietro Cazzo il cerchino Fa paura Ha una paura boia Sto d'accordo È diverso L'acqua si abbassa Ma che cazzo è sta roba Ma che resa Si scopre Ah colori Vernice la mappa Adesso non ci sono più Le nostre sporcizie Dovremmo colorare Ci sono mostri Per ora sono solo morto Io ho perso tutto La chat della sedi prima Eh non posso Niente Mi hanno messo all'angolo Ah ma non è finita Forza No 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 Non è finita No 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 In carità Ok un è morto Ok ho ucciso il cieco Ho ucciso il cieco Ragazzi Sono morti due Possiamo riprendere un po' il terreno Io vado a Fusciopoli Ma vabbè ci sono fenomeni Vai ti seguo No Samu Vai Mike Eh ma sono coperti da un cecchino L'ho ucciso C'è l'ho quasi ucciso L'hai ucciso tu Bravo Ok ho ucciso anche il cecchino Ci sta sopra una catana Oh ma questo sta in base Vabbè anche noi siamo lì Ah si? Sì stiamo togliendo roba No il cecchino mi ha preso Mazza Che bello deve essere poter shottare Che bastardi No ragazzi Io rispondo e muoio Dove rispondere dall'altra parte Che faccio? Ci hanno distrutto ragazzi Purtroppo si amico mio Non siamo stati per niente pessimi Eh non mi fa rispondere Sono stati meglio Eh vediamo un po' Ho verniciato il possibile ragazzi Dai Questo è leggermente Minchia Era una buona battaglia Ma l'ho vinto loro Secondo me Guarda di poco Di poco Quell'angolo della nostra base Riaffriare le ha fatti vincere Sì è vero È vero Dobbiamo difendere di più forse Eh quando attaccano in tanti Il pennello non è forte a difendersi Quindi mi serve qualcuno che spara Io ho fatto 8,4,700 punti Ok io ho fatto 4,4 Non so quanti punti Mo ti dico Vabbè tanto lo vedi dopo Sì Eh no sono 500 6,4,4,1,5,2,3 Vabbè comunque ci stiamo difendendo Dai dai forza forza Sì siamo Bene 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 Ci dicono dalla mia chat Che non si sono preparati Oggi ci stiamo difendendo bene Sì 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 dai Sì dobbiamo recuperare il 2 Per allenarci Prima del torneo Dove va Fammi vedere No ma io sicuro Nerdo su 2 Prima del Quanto è diverso Cioè ci sono delle armi diverse Ci sono Vero Vabbè però le meccaniche base Almeno le possiamo Imparare Sì Dunque C'è la voice chat Ragazzi sì Però noi stiamo usando discord In questo Sì Ok Octoslayer Mamma mia Di nuovo questa Che fall Di nuovo Questa stransia Sì la stessa Sì la stessa Sì però è bella strategica Abbastanza Quanto pare conviene colorare Prima le parti rialzate Perché Quelle sotto Si Come go Si possono coprire Sì vabbè Questi sono super aggressivi Anche molto Eh stavo senza Stavo senza inchiostro Perché sono un cesso Sono un cesso Sono Me ne sono accorto Che sarei morto Ma ormai Ho detto sto qua Ok questi non hanno strategia Minchia Sono stato shotato Ma non hanno strategia Sono aggressivi e impulsivi Potremmo farcela Ma è che quello Degli shonen Che analizza il cazzo Nel culo Lo vuoi ricaricare Oh my god L'ho schivata per poco Cos'era sta cosa Mi ha ucciso una ulti Credo Una cosa che non ho mai visto È vero Infatti Vabbè Bisogna recuperare qua ragazzi Eh sì Loro sono super aggressivi Ma non sono coordinati Ma perché io ho deciso di sugare Praticamente Oh che è successo 0-3 Che è successo No ok Abbiamo due minuti È tutto nelle nostre mani Ricarica Ricarica Corri Oh cazzo Dove sta quello Ok uno è morto Manchia Minchia C'è qualcuno in attacco Così poi te le trasporto lì In attacco no Bomba attenzione bomba Porca merda Ok Ho fatto una kill Bravo Saidonia Una Due dai Bravo Saidonia L'acqua si abbassa Ok adesso si Può colorare altri Ok Eh ma dobbiamo Ok Fare molto di più ragazzi Bono Ho fatto un'altra kill ancora Ok ora sto giocando Eh non ce l'ho Bono Un'altra kill ancora Bono Bono Morto un altro Ok ho capito come si attacca Questo coso Io se capissi come si sale Sarei fortissimo Oh ero in due Non l'ho visto l'altro Mi ero concitato su uno Coglione Oh sta arrivando malissimo Non stiamo perdendo Ma dobbiamo assolutamente Per pretendere la parte Nord ovest Adesso vado dietro Ah Ho ucciso veramente Un sacco di gente Tra un certo punto Ho deciso di giocare Ottimo No Questo è stato scarso io Se focussavo il fuoco Era fatta voi Come osate fare questa cosa Al mio amico Sabacu Che non è persa Non è perso No ma rimane Mi ha dato una pennellata No ragazzi no Non diamogli il tempo di recuperare Per l'amor di dio Coloro qui Macchiette rosse Sono i due Bastidiosi Oh Vai sai tu Grande Eh si ne ho splattati due Vai vai Colora Colora Coloro Coloro Ne ho splattato un altro ancora Vai 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 Chirei vai Fanno tutti i morti Non ce l'ha ganato Ho splattato abbastanza Non è detto che abbiamo perso eh Non è detto No ma non dovremmo L'abbiamo perso no No non credo Dai 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 Siamo vinto noi Abbiamo vinto noi Abbiamo vinto noi Sì dai Sì Mamma mia Cazzo Stagia In penetratium Splattamento totale Interiore In penetratium Perfetto In penetratium Esatto Esatto Chiara mi sta guardando malissimo Sì sì Abbiamo deciso questo nickname sobrio Assolutamente di gruppo E non è stata una mia proposta Ma sai che siamo giocati Minchia ho fatto 12-6 raga Io ho 10-7 credo Cazzo Spettacolo Godalizia la situa Olè Daglio forte Eh Godalizia la situa Vuoi provare a spennellare anche tu Codomo? Sì Perché non è male Più che altro è difficile per quando vuoi uccidere qualcuno Perché il range Io spennellarsi un po' Spennellarsi Dite due rulli? Però aspetta scusa C'è anche il pennello che è una via di mezzo Eh forse il pennello Aspetta scusa ma dalla lobby si può cambiare l'arma? Come la cambi? Eh adesso siamo tutti quanti in cerca quindi no La prossima volta Prima di andare a fare continua Fai spogliatoio Ah ok Ok ho giustato un po' i volumi Che ho preso qua? Sì comunque è vero raga La partita l'ha vinta L'ha rullata alla fine Eh sì 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 Togliendolo Il nordone Sì praticamente quando io ho fatto quelle due kill e tu sei andato dritto ed erano le ultime volte Abbiamo vinto Sì Era pochissima percentuale infatti Oh abbiamo cambiato colore Siamo rossi Che cos'è che hai preso chiaro alla fine? Niente In realtà non ho cambiato nulla Ah no aspetta Ok No sì Arancioni ora Arancioni invece no rossi Sì Bella bella Madonna mia quanto mi sento incazzato aggressivo Quando faccio stare Pure io pure io Ok Ma che cazzo sto facendo? Ma qua si saliva a destra Ma qua è mid Ah ecco me sa che era qua Che palle ricaricare Mi ha visto Mi ha visto Bravissimo Col guttling Niente Me la sono meritata No sì che palle ricaricare infatti Me la sono meritata tantissimo Non l'ho ucciso? Non l'ho ucciso? Ma che cazzo? Deserved Mea culpa Forza 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 Non ti preoccupare Mike Non essere così duro con te stesso Siamo ancora amici Qua? Do stanno? Ok Non stanno ancora in base nostra per fortuna Eh Però io sto perdendo Mi contano no? Dai scoppia granata scoppia Ammazzali No Sono troppo dai Madonna ma che è sto cosa? Ma non sa che è qua Eh bravo Mike Andiamo Sì Andiamo Yes Bella sarà Sì ma li stiamo Li stiamo distruggendo comunque Forza non fermatevi Io sto ancora qua a godere eh raga Mi sono stati in grado di ammazzarmi Non me non entrano mai in base Cioè sono solo Non vedo gente Mi state pushando tantissimo mi sa Sì sì Li stiamo Li stiamo pushando Ok Ok io Io sono stato veramente tanto in base loro E mi sono riusciti a ammazzare dopo un quarto d'ora Ottimo Beh allora Vai minchia ma è aranciopoli Sì infatti Ci sta eletti su Minuto Ok Andiamo 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 ancora in base loro Mike Sì Come si fa qua a tornare indietro come non conosco questa cosa Oh Oh cosa erano ulti? Non lo so Stai lì dietro Però mi fa paura Non capisco cosa faccio Non ho fatto un radar? Non lo so è tipo il talismano di Lloyd Perché ero feo Cosa devo fare qua io per Benissimo Let's go let's go No no via Ah non ho proprio visto la granata No Ah qui Megagranadoni Attenzione che poi si ha tirato un po' Una nuke Cioè Sì Ha sciattato tutto Eh bro bella la Catalina Allora Non mercede colpo verso la fine Attenzione ci devi recuperare Eh io sto qua a sparare Ho fatto schifo Vediamo Mi sa che ci hanno inculato alla fine Esatto Era molto No ok no no Oddio no dai Secondo me ce l'abbiamo Eh sì dai Let's go ragazzi Quattro win una loss Sì ragazzi Vince che colora di più In realtà Che poi ci staranno anche altre modalità No penso giocheremo questa al torneo La base No no questa questa Mi schiamo Questa Mi schiamo Lusca Quinta vittoria Eh Sì Una quarta Quarta vittoria Una sconfitta Abbiamo fatto Quarta Continua penso no Provaci e vediamo che succede Chiara Dai Sempre in tempo ha cambiato Ah hai preso il pennellone pure tu adesso Oddio ma davanti è grosso sto coso Devi tenere premuto il tasto per attaccare Svernici Poi se vuoi dare un colpo un po' più a distanza Salta e attacca Spruzzi un po' più avanti Ammazza che figo Tra l'altro prova a calpestare i manichini Vedi che fa comunque danno Se riesci a calpestare qualcuno Mentre rulli Li sciotti Anche se si nascondono Ammazza Eh mi sa che questa è la mia arma Ok Abbastanza semplice Il problema però è che se ti saltano addosso e ti sparano è un guai Doppio rullo quindi Eh vabbè Posso anche sguappare io in caso Però se no tu eh Puoi anche provare tu Il pennellino Eh Eh però ecco sì magari una range del pennellino Eh una via di mezzo non sarebbe affatto male Vabbè adesso siamo così proviamo vediamo come va Come possiamo? Due rulli? Due rulli sì Un po' un po' Facciamo così Allora Kodomo ti prendi o la sinistra o la destra E io l'altro Allora io vado a sinistra Ok vado a destra Mike qua dobbiamo busciare come cani eh Sì sì Madonna mia C'è per giuro faccio un lavoretto di fino Attento Mike attento Eh sì ero nell'azzurro Ero nel giallo E non potevo schivare Giocate safe voi due in attacco Perché siete da soli adesso Io ho ucciso Ma Infatti eh Recupero Dai andiamo Mike che siamo indietro Attento c'è un arciere che sta tenendo La carica Merda Erano in due Sì un po' più safe E li ho uccisi Ok Uno è morto Uh Ma la mala Vai con l'ora qua Bella Cazzo Ce n'era uno nascosto Ok ok sono vivo Devo ricaricare un po' più Di effetti vitturare Cazzo Era buono Bravo 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 L'ho splattato Eh ragazzi però abbiamo due rulli Ma ancora la base non colorata C'è qualche problema Nooo Sì sì adesso la coloro io con la parte Sono spawnata adesso Continua a fare quello che fai codomo io sto colorando Ah ok sto cercando di vedere dov'è Allora lasciate qua Sì bravo Lasciamo qua indietro Circo di Stanno arrivando però un paio di attacco Eh Quei due Troppo Troppo aggressivo Facciamo le apicine eronati Madonna tutto Ok Un po' di roba da colorare Stento Ah cazzo c'è va la ulti porca di quella puttana Va bene Ok Il razzo fa proprio schifo comunque Ho la ulti anch'io Vieni qua sotto Lo scudo Non è male il nostro Stai nello scudo Sei protetto Madonna Ragazzi è un burguerro No secondo me è stato in comp No infatti Però proviamo a ucciderli Magari riusciamo a ricolorare tutto Sì sì Eh sì dovreste provare a schiacciarli con le ulli Ma qui siamo completamente invasi dal giallo Uno l'ho ucciso Sto cercando di riprendere ma oddio Non mi facciamo di lanciare i granati in mezzo a loro Ma sono anche bravi a schivare Aiuto Sono anche inutile Bisognerebbe Boh Prova a seguire un attimo Solo per colorare la base di là Sì sì Eh ci sto pure Questa è stata veramente una partita del merda Eh forse due pennelli non so proprio No Eh però continuate No no certo certo Mancano 15 secondi andiamo Loro si sono sbilanciati parecchio Io sto andando Double che io Cavolo Questa è capace Ah pure io Double che io È finito Abbiamo fatto tabula rasa Ma mia Ah che peccato Accidente Ma sai che No 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 Cioè potevamo fare meglio Eh la parte c'è Di pochissimo Zero 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 Secondo me se ci organizziamo meglio ce la facciamo Cioè dobbiamo solo capire un attimo Beh magari due Prendo qualche pennello più soft Ok Con uno più da attacco Così casomai gli attaccano gli vecchi Let's do this Ah I scenari sono stati aggiornati Ah C'è l'aggiornamento ora Perché sono le sei Ah Vediamo Forse c'è qualcosa Cambia Eh C'è qualche roba Ah Vediamo che ci dicono Dai Allora Diego Pennello o tergilama Provano uno diverso Magari Io proverei a tergilama Perché è veramente bella Yes Solo che a colorare non è proprio A volte Ah magari Attacchi Che ne so A volte si sente l'audio degli altri Com'è possibile Forse Cuffie in alto Che prende il microfono Eh no Io non sento nulla Da discord Ma anch'io non sento niente Strano Da dove lo sentite Ok Eh scusami ma Ma siete ancora in team voi? No No perché sono cambiati gli scenari Giusto 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 Ok rifaccio la lobby Rifaccio la lobby È fighissimo perché io vedo te Sai do che dici Ho fatto una partita tema Una stanza per una partita tematica Ma non è vero Ti giuro Allora aspettate che faccio il lobone Allora Oggi hanno preso disponibile la demo Solo per oggi Lisa Ok Ma potete scaricare tutti Forse il pennello ci sta Quando ti attaccano invece di rispondere al fuoco Scappa il colore Perché il pennello come ulti ha un rampino Che ti fa andare dove ti pare Quindi potrei andare nella loro base all'ultimo E colorare Togliere tutto il colore che hanno Quindi è fattissima sta cosa Ma guarda che anche all'ultimo Cioè passare dove sono passati loro Io prima ho fatto un botto di Ma perché sono pressati Magari vogliono Vogliono pushare E lasciano un po' perdere la base loro Esatto Infatti proverò a fare così dopo Solo che il pennello più piccolo Colora meno Quindi un pennello ci vuole Vabbè tu E io ho rifatto la lobby Prendi il pennellone Io ho rifatto la lobby Vediamo F***ata sta cosa Vediamo se mi faccia delle da qua Cazzo si è dimenticato il codice Dovrei averlo imparato a memoria Eh non ho una grande memoria Ah è stata chiusa Ok Quindi è un'altra Devo ritornare qua Ok Tolgo un secondo Quindi se ora siamo a cinque vittorie e due perse Due sconfitte Sì Beh oh migliorno No ragazzi il cecchino no Faccio schifo Il cecchino lasciate perde Dovrebbe essere questa Top memoria Quanto non vuole Ok Ma che memoria di merda A posto ci sono Ok let's go Ok ci siete tutti Allora Yes Cinque Uno Adesso non hai un pennello grande Ma un grande pennello Esatto Cinghiale proprio Esatto Guarda non puoi vedere come colore Ok Non è più sottile Però in compensa posso picchiare meglio Ok Bene Allora Io credo che alla mia chat Se qualche consiglio sul bazooka esiste Perché mi fa schifo Fa schifo Fa schifo È una ulti di merda Cioè io Cioè perché tu kill No perché ho visto gli altri ulti cosa fanno Tipo razzi infernali Perforatori Eh porta quello squalo che va sotto E poi esplode dopo Oddio Mappa nuovissima Che è strana sta map È gigantesca Rullate Rullate Mamma mia rullamo tutto Vai bra È gigantesca Qua c'è un sacco da colorare L'album dei bambini È un hat attack sta map Colore dinosauri Ok Devo ricaricarmi Vieni seppietta Madonna Un cecchino era? Quello è una ulti Quella roba di mobility Ah minchia Sì sì Eh però non so cosa volesse fare Perché in realtà è finito Per non fare un cazzo Esatto No Pulisci tu qua Allora No vai a fuori in culo No Eh quanto dolce qualcuno Quando? Quando qualcuno abbandona la partita Si esce instant Ma non nel nostro team No 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 Loro hanno una penalità E noi invece Madonna Nero partita veramente a cannone Eh Ok ok Vabbè Continua Fate continuo Peccato Era una buona partita Avevo fatto veramente Sì sì Una ulti Avevo preso tre di loro Altro che Chissà se Il server Dici No Ho visto Oppure qualcuno Veramente abbandonato E si sono spaventati È il gruppo È il gruppo Lì abbiamo intimorito Sto a prendere la mano Questo rullo Ah è simpatico il rullo È carino Anche se sembrava Che fosse tipo La cosa più odiata Ma ero in realtà diverte Dipende che tipo di player sei Se vuoi fare Sparare la gente E fare rissa Allora no Però se ti piace Colorare Bella Se ti piace colorare Sì Voglio colorare L'hanno fatta apposta Dico in chat Giustamente Vai Oh oh Si può cadere nel vuoto Ho imparato una cosa Di scuolatura Sì si può cadere Non succede niente Però c'è Perdi tempo Perdi la vita Perdi la vita Non succede niente Ma perdi la vita Eh sono un cretino Sono andato deep Sono andato deep E Cos'è quella cosa Un Cazzo perché colorare Devo dire Grazie Chi è che rulla Adesso sempre Chi è niss E anche io Io sto Una via di mezzo Ah in realtà Sto rullando Solo io È vero Io ho cancellato Lo squadro Il grande pennello Però a breve Vado un po' In attacco A colorare La base Loro Mi piace Occisi in tre Sì Cazzo È questa Pese Eh vabbè Ma io prima Ho fatto Però non basta Mi sono spesso Sponati Tirala Adore Ricarica Morto Questa Pesicchia Morto pure Questo Mi raccomando Mi fa ricaricare Sto sopra Mike Sto sopra Bella Morto Ho la ulti Quindi andiamo Con un certo grado Di serenità Mike Ok Grande Carichiamo un po' Eh ce n'era uno Sopra Sì ti ho vendicato Proprio quello Proprio il crano Ho finito L'immunizio Ho finito Le munizioni Le munizioni No Sì ho finito Ho finito Il liquido Eh tipo Quanto al corpo Come arma Quindi Macello Ok Pazzo Pesa Sono sceso sotto Unlucky Ma ma è appena spanata Morto Che fallito Ma è bravo Mike Però adesso Ok adesso Coloriamo Un minuto Così ci andiamo qua Ma non posso Non posso claimarlo Questo Ok torno a base È meglio Merda Non l'ho proprio Visto arrivare Questo Allora Non sta andando bene No Aspetta 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 Secondo me Dobbiamo tornare Alla composizione Originale Sì Cos'è sta cosa Prouttiva Eravamo potentissimi Eh Perché abbiamo Poco attacco Quindi Eh può darsi Sì Però è rosso Il nostro pennellino Non è proprio Però anche Eh ci hanno invaso Quanto siamo? 5-3 con questa Questa non è mai Nella vita vinta Eh guarda Aspetta Eh troppo Troppo rosso No Questa non si può vincere S'hanno proprio Mazzato dall'inizio Alla fine Signori No ma era merda Il pennellino Esatto Non colora E non attacca Nemmeno Eh oppure Magari il trucco Per Madonna Ma infatti Le armi andrebbero Un po' Provate Ecco ci hanno fatto Il culo Sì Andrebbero un po' Provate Oppure Do così la mia Usiamo la team compi Prima e impariamo il gioco Con delle armi Con cui siamo confident Che secondo me È la play Yes Quindi Di ritrovare Come ti senti No Allora Qui dalla chat Dicono Che in realtà Codomo andava benissimo Col pennellone Perfetto A non attaccare bene Ok Perfetto Allora provo a prendere un'arma Allora ritorno Cioè ritorno col pennellone Rimani come stai Però il pennello Ha fatto parecchi punti Strano Io ho fatto 4 6 Ho fatto veramente una merda Vabbè Abbiamo fatto delle belle partite Accidenti Eh sì sì Vabbè Vogliamo riprovare così di nuovo Vedi che in realtà Guarda che vedi che forse è meglio così il pennello Guardalo Vogliamo riprovare di nuovo così Sì sì riproviamo Io sto imparando anche cose nuove Anche perché non potevo cambiare ormai Tira la vernice così Molto carino sto gioco Divertente È bellissimo infatti Wow Ok pronti via Rivoglio i penetrati un zeda Eh non siamo più i penetrati un quando perdiamo Eh lo so Non vuoi infangare il Cambia il tempo verbale Siamo i penetrati Siamo i penetrati zeda I penetrati zeda I penetrati a Eh l'assettua qui è che c'è un tizio super sopra Che sta rompendo i coglioni e va ucciso Eh mi uccide prima lui mi sa No? Ok Oh mio dio Oh 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 Ok non so come ma sono io Ma tutte ste ulti Oh merda Loro Per loro le ulti sono un asset Perché per sé lo sono sempre Porca mignon Porca mignon Perché sono piccoli Eh stanno attaccando la base Rega stanno andando Prebutenti Sì la base è completamente gialla E non capisco perché Eh sì Te ne vedo qualcuno Però addio Io sono riuscito a prendere delle kill Ma poi splodge Mi ha ucciso Attenzione al pennello Dietro siamo veramente poco pennellati Eh No Cercando di fare il meglio Ma che cazzo Comunque la ricarica è veramente una rottura Madonna E' un po' di tempo Porca mignon Sono stato cecchinato E' splattato no Vai vai copro io qua Ah mi ha imploso Che cazzo Eh pure a me Che cazzo E poi si Ok allora Allora cerco di rifinire meglio la zona dietro Perché vedo che ci sono troppi buchi Sì E' un po' di tempo che muoio E' vero So forte Do sta Ok Credo di essermi Deciso a Proporvi di nuovo la team comp inizia Sì sono d'accordo Noo Madonna mia Madonna Madonna Ma che hanno fatto Sì ma capace Questi erano E' capito Cioè ci sta pure che siano più forti Non è detto che magari siamo noi Eh vabbè ma io ho provato a colorare Stavolta ho fatto zero kill praticamente Perché ho cercato di recuperare il colore Ma non è servito Sì però prima c'era intimità con quella team comp Capito Sì 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 Eravamo intimi e belli Io sto a fa la giocata me sa regà Io sto a fa schifo Sto a fa la giocata strana Vai No ti prego non uccidermi No 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 Io ribadisco che sto semplicemente facendo schifo Stavolta sì Anch'io ho fatto veramente Non so come si Stavolta su chi fa più schifo Benissimo Benissimo Credo di aver fatto 15 death Eh questa l'abbiamo persa proprio male Questa parte ce la peggio Questa è un po' di vergogna Sì questa sì Questa decisamente tanto di vergogna Sì Ma oddio abbiamo visto il peggio 5-4 ragazzi ne abbiamo vinte 5 non 4 Abbiamo fatto il Mario Kart momento Come ci organizziamo adesso? Come prima Le stesse armi che ci facevano vincere Un sacco di partite Ok allora ritorno Quindi Irenis rulla Chiara spara Che cosa avevi? L'hand up? Eh quello base Quello base? C'è proprio quello iniziale Sì 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 ma in realtà c'avevo quell'altro Che sembra tipo quasi un fucile a pompa Va bene allora tu Qual era questo qua? Questo qui è End up End up sì Eh allora vedi se avevi l'hand up Avevo visto bene Sì Yes Si torna a finnellare Vai preso Sì ragazzi adesso è impossibile perdere Ora torniamo al potere originale Siamo come Broly Dove riprende un attimo la mano Impossibile perdere raga Pronto a sverniciare Eh Eh dai Ok vai La vittoria si preannuncia No 5 win 4 loss fa male leggerlo Eravamo 5 2 Eh Momento di aggiustare Ma adesso Kirenis Cioè come tu l'avessi appena traslocato Sì Tutto blu Forza Napoli Forza Napoli Bravissimo Un solo valore No 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 Vai via Pezzo di fango Maledetto Merda Eh rovi la fonte Sì La doppia No guardate anche loro ha un rullo Eh beh dovrebbe avercelo tutti in teoria Bravo lui che Che vuole fare Il signorino Tu mi stupi Però adesso Adesso Franco Eh che mi Vaffanculo ma ci sono lo stesso Sì Dai dai Ragazzi Perché Forza Sono morto Forza Sempre cercato una vocazione La mia vita Merda 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 Ok l'ho ucciso almeno l'ho ucciso Grande La double kill Sì l'ho vissuto Una gialla Oh my god Non sto riuscendo a prendere una posizione Di rilievo In alto No 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 Invece ciò che serve Oddio ma guarda che culo No siamo morti insieme Ho fatto una giocata incredibile Ho bisogno di Ok Vado lì Eh ma il mio Cazzo Non fa neanche un Onda d'urto decente Sto a fare Sì sì esatto Il mio lancia missili Non fa neanche una web Niente ma Ragazzi siamo coperti di giallo Adesso sono spawnato È il momento di pulire Però c'è un tizio in base Due tizi in base Che mi hanno riveduto Gli ubi È bravissimo Quello con rullo Fa esattamente Quello che va fatto con rullo Cioè È già Salta E deve essere uscito Io sono stato un papido No ma Ma lo ammazzo Dai che cazzo No niente Mi ammazza lui È una bestia È fortissimo Ma infatti Ma infatti c'è pure Il gignolo D.A.C. C'è il team Capito Questo è Ok è morto Verso il 5-5 Ragazzi Sì Voliamo verso il 5-5 Mi sembra La palissiano No dai Sì sì è palese Di nuovo Kill 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 No No sì sì Anzi Questo farebbe due punti Per loro Probabilmente Morto Ma morto Eh guarda Tutti così Questo col pennello è tosto Quanto manca Quattordice Zero Durissima Ah non muoio Ma che No 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 Ci hanno devastati Amici Sì E già Bene 5-5 Tutta la magia iniziale È andata Qua ci vuole un attimo Una piccola Quelle qualcosa che fanno I player di basket Stamicino al cerchio E parlano Un time out E dopo di quella Però la partita C'è una svolta Quindi Sì Allora Allora ci vorrebbe Due in difesa E due in attacco Uno in difesa Che spara però Loro Proviamo a fare una Comp come loro Scusa Facciamo due pennelloni E due Ci vorrebbe qualcuno Che difende il pennellone Secondo me dobbiamo Committare a questa comp E rifare un'altra partita Così Ok Facciamo un'altra E un'altra Se va male Va bene Facciamo esperimenti Mi puoi fare Da bodyguard Secondo me È il momento Di committare Io e Sommacu Penetriamo da morire Sì E voi rimanete Un attimino più indietro Sì Ok Cioè non Non sprecare Tutta la La ricarica dell'arma Per colorare A quello ci penso io Tu Tieni Teniti pronta A sparare Se c'è Quali All'inizio Non c'è nessuno Quindi Però quando iniziano Ad arrivare qualcuno Anche soltanto Dirmi Ce n'è uno lì Ok Perché io sono Sto focussato A colorare Ti sto un po' dietro Magari Sto un po' attaccata Bodyguard Eravamo partiti benissimo Copri tutte le cose Che vorrei far coprire Col rullo Tutte le chiazze Che non copro C'era proprio la winstreet Comunque effettivamente Sembra che più andiamo avanti Più diventano forti Non è che magari Anche il matchmaking Potrebbe essere È vero Che magari hanno capito Un po' il livello E ci matchano Con gente simile Vediamo che succede Allora Il godimento Dove che ne sono so perso Già Sì sono in base Già Ma adesso colore Tanto dall'inizio Non c'è nessuno Adesso siamo tranquilli Oh Minchia Minchia Ha già ultato Sto tizio Sono arrivati Madonna ma com'è Loro hanno una strategia Da gamer di Splatoon Non di prima Prima partita In serata Allora Sì sì È vero Beh è anche Splatoon 3 Mi rendo conto che Possa essere successo Madonna ma questi sono Ma che cazzo Ma c'è un dinosauro Che mi insegue Ok Ok Metto la ulti qua Ok adesso Sto dietro Mazza questo Ma le voglio anch'io Le armi che shottano a distanza Che non siamo un cerchio Questo lancia le granate Merda Questo si è nascosto Minchia È morti insieme Eh sì ma Cos'è sto robottino Che fa sto robottino Ti insegue e ti fa male Ok L'ho appena scoperto Sì ma sono peggio Quell'altro Questi Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Ragazzi ci stanno Aprendo pure questi Ma che succede Non voglio la sesta sconfitta Andiamo Mike No non la voglio Non l'accetterò C'è piuttosto Mi sembra una reazione Immatura e sposata Ma perché Uccidi Mike Ok Splatta Mike Ok è morto questo Eh sì mi hanno splattato nel culo Come va il caso Dove devi prendere le frecce direzionali Tipo Quando spawni No please don't No dai ma quanti HP ho Due Dai fan culo Ok Ne ho ammazzati due Non riesco all'altro Verriero Mollusco Ah stai zitto Godo Godo Diciamo un minuto Madonna Andiamo turbo Deep Andiamo turbo Deep Andiamo turbo Deep Nessuno mi sta disturbando No l'ho detto Morto Morto Ah ok Bravo Dai Ah mi hanno ucciso Un pennellone C'è sì C'è un pennellone prepotente Tre contro uno Ma sono Tutta la mia squadra Qui E quante Ci hanno arrivato Qua Hanno stravinto Burgaboy Mi ha distrutto Stravinto Stravinto No secondo me Sono più forti Questa è la soluzione Più logica Sono curioso di vedere Che armi Esistono Che sparano in maniera originale Ci sono dei lanciagranate Che sono incredibili Vogliamo un attimo Rivedere le armi Un secondo E valutare No sì Ascolta Sì Va bene Sì Ve l'avevo promesso Ve l'avevo promesso Io rimango Con lo splasher Ok Se vi trovate Ovviamente Meglio così Sono colpito Ragazzi 5-6 Sì comunque dobbiamo fare 2-2 Ragazzi Ci hanno tutti 2-2 Fateci caso Sì Eh sì Tutti due pennelli E due sparoni Io ho fatto 7-7 Adesso ti dico L'ho fatto Io ho fatto Schifo Che schifo Mi faccio schifo Allora Io metto Io prendo il pennellone Ho 6-9 oggi Vai pennellona Ho perso il mio Pennellona 10-2 Allora Che arma Stavolta Sì sì Secondo me dobbiamo andare 2-2 Due pennelloni E due splash E due attaccanti Sì sì Vabbè io attacco Sì semplicemente Perché dobbiamo prendere un attimo La mano Regà Cioè Ma due rulli proprio Hai capito I tuoi di prima che hanno vinto Prima di questa squadra Avevano così Due rulloni Voglio provare una cosa Provo la katana adesso Dai La katana La tergina La splatana Il problema della splatana È che non colora tantissimo Quanto i pennelli Esatto Un ragazzo in chat Dà un commento intelligente Non bisogna abbattersi Quando c'è un dislivello Perché altrimenti Si perde la concentrazione E si perde anche contro le scarse È vero Normale Bella la ulti però Della katana Quando cacci il martellone Sì Il timbro Devi spammare lì Sì 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 Bene così Dai dai Questa si vince Si va sul 6-6 Dai per favore Non c'è più credibilità In questa semiscia Ma magari adesso Ci ha matchato inferiori Dato che prima Tutte quelle che abbiamo perso Facciamo Facciamo pena al nintendo Adesso Dicono vabbè Ci mandano le cappucce Adesso li facciamo Basta così Ora manco un pennello C'hanno Manco un No E vabbè ci pensiamo A noi Spennellarli Bella lì Bella Ok c'è un simpatico Catanatore in alto Eccoci qua Lo vedo Ok Oh cazzo Eh si è venuti in base Ma hanno un po' picchiato Eh t'ho visto Allora vengo indietro Dove ricaricare Buono Ce ne sono altri? No Ok 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 Madonna Non è morto Cimbro E' la ulti de merda Dell'arco del cazzo Che comunque è meglio Lo schifo che ho io Eh abbiamo due pennelli Perché la nostra base A destra è completamente grigia Non abbiamo due pennelli Sì ci abbiamo due pennelli Oh no Perché hanno tutti l'ulti Attiva Stavamo vincendola questa Stiamo ancora vincendo Possiamo ancora vincere Ci penso io sopra Ci penso io Che la mazzo io C'è un ulo Vai Niente Ok Cazzo Ah doppia chi Vabbè kill Scambiare Scambiabare Sì sì però No Cazzo Ho attivato Sì vabbè domani lo miro Niente di che questo catanello Un po' complicato Mi sa L'arco Ah l'arco shottante Vai ricarica Come on Sprighiti No vaffanculo Arrivato qua Cazzo c'è uno che è la catana dietro Ma vaffanculo vai Morto uno Questo sta a feciavate Col pennello ce la fai a colorare la parte destra Sto cercando di riprendere un pochino E' super E' buono Dai 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 vaffanculo L'ho ucciso e son morto Mannaggia Ok Sto rossa questa ragazza Eh si sono super in base Se ne ho ucciso uno Provo a pussicchiare un po' Andiamo Quello Che arma è Sta spendendo tutto Velocissimamente E' la catana Ah si Eh si E' meno male che l'ho ucciso con la bomba Manca 13 Ammassa Ho provato No ma fai a carica Estremamente Forti Ma che cazzo No mi fai a carica Questa catana È il pennello catana Qua mi sa che ho fatto 0 punti Mamma mia Ragazzi 5-7 No Stiamo prendendo il palle 5-7 Stiamo scoprendo in realtà adesso Sì stiamo scoprendo Secondo me Ci hanno dei team Esageratamente forti gli altri Ci stanno scoprendo molto in realtà Allora Sai da un consiglio Cerca di muoverti il più possibile Come polpo E di non finire il caricatore Inoltre appena vedi un nemico Ingagcialo Cercando di ucciderlo Se vedi che si mette male Nuoti in direzione opposta Cercandosi di avere la tua vernice Un'altra cosa potrebbe essere Quella di lanciargli addosso Una granata in faccia E scappare Io qui ho fatto un 6-5 vergognoso 6-5 vergognoso E let's go Che cos'è l'aeroglio ragazzi? Torno al pennellone Il matchmaking è andata a fanculo Vi stanno mettendo con gente forte Eppure a me mi dà sta sensazione Eh? La soluzione è che dobbiamo diventare noi la gente forte Allora è bravo Bravo Esatto Death of Mindset Bravissimo Il momento Il momento Come però Questa è una cosa che non so dire No Il consiglio supremo è colorate Beh Tellurio E anche accendere la console Per giocare direi A Un consiglio incredibile colorate Ok 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 no sono tornato al pennellone Questa è la Proviamo così dai due pennelloni Secondo me due pennelloni Non è top ma proviamo Proviamo Aspetta dove si vede come Ok qua Secondo me il nostro shine massimo L'abbiamo raggiunto un 3 ranged E un rullo Posso provare a sparare Però non vi garantisco nulla Non sono un grande sparatore Allora se perdiamo questa facciamo la play pazza E prendo il rullo io E se poi perdiamo quella Lo prendo io così almeno abbiamo fatto il rullo Provate anche voi Lo spasso che è rullare Allora adesso bisogna cercare Altopoli Bisogna stare in alto In questo gioco Tirare le bombe Sicuramente con due rulli la base è a posto Il problema è l'attacco Se ce la fate Eh si Ma c'è con la ulti qua sta Ma perché hanno tutti la ulti alla prima al primo angolo Perché colorano tantissimo all'inizio e la caricano Ma no il problema è perché hanno degli ulti buone Io non la voglio la ulti Eh vabbè ma che cazzo ma sto squalo colpisce ovunque Io Cristo Non stanno devi cambiare arma d'attacco Ci sono armi che hanno ulti migliori Eh direi però Allora meglio della splasher qualunque cosa Ma che cazzo mi ha ucciso Sto stronzo bravo Io almeno Scarso sono stato adesso Se no veramente ce la Facciamo quattro rulli E probabilmente scopriamo che è game break Che è il meta È la meta call Ti immagini Non so come ammazzare quelli che ci sparano Ma ok Ok ricarico un po' Magari un cecchino esperto Madonna L'iground è fondamentale cazzo Bisogna avere L'iground come overwatch Perca merda Nooo Mi spara tutto Cosa Scusa Ok Andiamo da Qua Ah vai a fare in cazzo Bello l'aerografo però Quattro secchi ci dicono Che hanno incontrato Alcuni ragazzi in chat Che vuol dire Eh c'è anche il secchio come arma Ah Il secchio? Oddio Non ho provato Che è sta roba? No Eh ma qui bisogna andare turbo dip Eh Tieni qua Sì Tento tento dietro C'abbiamo lo scudo per ora Ok Eh dai Ammazzalo Minchia Vai affanculo Sto cazzo daerografo di merda La bura rasa Ok Ok vado da salvo Copro tutto Non siamo andati male No no Stavo a dire prima Merda Sono solo Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Ok Eh sei in base nemica mi pare Ma bene non c'era nessuno E tabularanno Sfano di tutti praticamente Merda Sei in plosa Non importa Andato bene Andato bene No Però è morto Non c'è un ragazzo Ce n'è ancora uno Via arriva con la moto Capiamo Sto colorando Un pazzo Ce la facciamo questa Granata per togliere Io cerco di togliere Più possibile Resisto E uccido Questo è un po' Frammentata Secondo me Si capisce Dai Abbiamo vinto Siamo nel godo Siamo nel godo Finalmente Si Forse dobbiamo andare Un pochino più avanti Piuttosto che rimanere indietro Cerca di Tutte e due le cose Eh si Siamo nel godo Come ravano Come ravano Come ravano Adesso due rulli Due rulli credo si Abbiamo due rullato Bella quindi 6-7 Dai almeno 7-7 Poi se ne parla 7-7 Io ho fatto un Un onorevole 7-4 Un onorevole 7-4 Ma guarda mio fratello Sabaku Abbiamo fatto Ma tra l'altro guardate tutti Siamo tutti allo stesso punteggio Esatto Gravissimo Anche senza kill Siamo andati avanti Abbiamo colorato parecchio Mike ci ha rinunciato a fare le ulti Ne ha fatte 0 Sì Ha detto vabbè Ma non c'è qualcosa Perché non provi qualche arma Sempre simile Magari a un R Mi dicono Mi dicono di provare l'aerografo Eh io lo provo la prossima partita L'aerografo Anch'io dai Due aerografi Sì dai Non si cambia Impossibile non avere la stessa arma Io e Michele È la stessa win ratio Tra l'altro Vamos Let's go Ciao Giorgino Andiamo Andiamo nel goto Non riesco a capire Ma di attivarlo Se andassimo insieme Ti ho scontrato Dove? Eh se andassimo insieme Facciamo tipo tu un lato Io l'altro Cioè capito? E dovremmo colorare un attimo Prima la base Poi pensiamo al resto Ho ucciso un tizio Con una bomba Senza neanche volerlo È stato bellissimo Andiamo di collare qua No! Double che io No Cazzo Tu la usi la ulti Codomo Io non riesco a capire Oltre ore Che sto cercando di attivarla Spremendo R Ma non riesco ad attivarla Non so perché È il tasto che usi Per girare la telecamera Cioè proprio lo schiacci L'ho premuto Ma non me va Oh perché non la ricarico Ma mi sembra strano Perché Mi hanno ultato nel viso Amici Eh ci abbiamo Un po' di persone in base In realtà Lo vedo Lo vedo Ma non si preoccupare Da uccidere No Invece preoccupati Perché Mi hanno ultato Adesso preoccupati Ci hanno conquistato la base Ragazzi Ma adesso li scacciamo Ok uno è morto Morto un altro Posto Ok Possiamo andare Via via Scegliamo tutto Ok c'è uno scudino qua Aspetta No Non fossi Non fossi nemico Quello è morto Impossibile uccidere Con questa ulti Qualsivoglia cristiano Non è morto Ok c'è un culo Brava Oh doppia kill Merda che azione Che ho fatto ragazzi Non avete idea Di quello che è successo Ho fatto uno stealth game Da paura Attenzione a questo pazzo Questo pazzo Oh è morto No Chi è? E' morto pure quello Ok Eh ma non li posso citere tutti Ok Tabula rasa si gode Andiamo pushiamo Pushiamo No merda La ricarica infernale Dai 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 Non molliamo Non molliamo Non molliamo Gli sta tremando lano Metto uno scudo qui al centro Ok bella bravo Ho fatto Ah eccolo Dove stanno Ah c'era il cazzo Cazzo l'ho visto Jupiter Maria L'ho ucciso Jupiter Ci abbiamo scoppi una sega Questa cosa Siamo 4 but 3 Grazie Pokémon next Grazie mille Morto pure questo Ma vaffanculo No 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 Ci siamo ci siamo Forse No dovremmo aver vinto Forse Ok Dai non possiamo aver perso questa Dai sì dai Vinto Mi provaro che avevano un afk No 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 Sì mica mica da subito No 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 Hanno Hanno afkato Quando gli abbiamo fatto La quadri kill In base 7 e 7 Ok Mi piace Dai stai Sta cominciando a funzionare Secondo me Ci siamo ripresi un po' Buono Gli ultimi due minuti Erano in tre Ma la partita dura Tre minuti ragazzi Allora dov'è l'aerografo Vediamo un po' Senti Mike Prendilo tu l'aerografo Ok dove si trova Ehm E' quello grigio Eccolo trovato E che ulti è Ah lo squalo Ah vabbè Allora è rotta Secondo me la ulti più forte Sì lo squalo è rotto E cosa fa lo squalo Lanci Una specie di missile Che tira dritto E esplode Più avanti Non mi piace l'aerografo Ve lo dico Ha una rosa troppo ampia Sì ma la ultima fa cagare Comunque Qual è di che cosa No lo scudino No non fa cagare Se la piazi Bene aiuta E' simpatica Cioè se lo metti Le persone fuori Non ti possono sparare Solo se entrano dentro Lo scudo Possono Ma quindi è una ulti difesa In realtà Sì Super difesa Sì Poi loro pensano di attaccare Tu metti Io a loro No a me fa schifo L'aerografo ragazzi Quello è il problema L'aerografo Lo hai scaricato A sabacu però Io l'ho provato ma L'aerografo è super forte Adesso è forte Vediamo Vediamo Eh vabbè È forte però Non lo so usare Mi fa schifo Ma non ho capito Manco che è in realtà Non ho provato altro Belli Siamo viola Viola Twitch Ok ragazzi Mi raccomando Spennelliamo Praticamente ho un ruolo Che spara Perché l'aerografo Collora un sacco Ti riempie l'ultimo Un secondo L'impennellatium z Mi raccomando Ma questa mappa Ci siamo Attento Mike Ce l'abbiamo subito Dietro il culo Attento Sì l'ho visto L'ho visto Metto io una bomba di copertura Non può avvicinarsi Perfetto Se ne è andato Da te è fuxia Non è viola Eh vabbè Bella No Non fate mai il mollusco Sul pavimento Con lì Con i buchi Dai ma perché mi si è Castrato Perché non è morto Perché ha una rosa Troppo ampia Non fa danni Viena Non fa danni In effetti per vincere le partite Può essere buono Magari fai meno kill Ma Io sono nel godo ragazzi Era un stealth Cos'era sta cosa Merda Mi stava inseguendo Il bastardo Non l'ho proprio visto E morì Ok Cazzo Una bomba Ok Morto qualcuno di loro Però anche noi Madonna Odio sparare E non fare danni Pazzito E' bella Pennello E' uno dietro E non l'avevo proprio visto Tranquillo Dai 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 Ce l'abbiamo Morne Sono sicuro di avercela Però Guarda come scappano Da me Ok Buono lui Lui preda facile No E' vaffanculo Mi ha dato una pennellata Bastardo Sei bella Morto Morto Ti ho vendicata Bravo Torni al bacio Un attimo Vado avanti Ok Vedo Mike Vengo a supporto Ah cazzo Sei morto Sì Vabbè non ti preoccuparti Minuto Ok Ho fatto la ultima Ok Ne ho ucciso un altro ancora Oh vaffanlo Oh stanno dusciando No no Sono morti in due No La video bloccati Eh si L'hanno provato a busciare Ok è morto questo Questo che vuole Questo è stupido Infatti Ma non guardava da nessuna parte No è ok No mi si è sbagliata Vai che resta qui Ma cazzo Salgo amici Non si può Penso Ah no si può Si può Sopra Merda Lo scoperto troppo tarde Ok Che che resta qui Che fa andare qua Tanto chi era Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Nezuco Ok Hai Ho preso all'ultimo Ce la fate Sì ultimi secondi Abbiamo Strati La mappa Sembra Quasi Fa la differenza Siamo stati bravi Secondo me Sì 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 anche secondo me Eeeh Lo scopatium Mamma mia 51% Yes Dai dai Ragazzo Ci siamo Bene Guarda che fighi Che siamo Hai capito Manco fosse Gatsu Con lo spadone O quel cosa Bravo esatto Col braccio Abbassato inovanti Ragazzi ho fatto Un poderoso 9-2 Buono Buono Poderoso Poderoso Ma Sabaku Un poderosissimo 11-5 Madonna 917 punti Non sono male Hai detto che fa Meno danni Quell'arma Eppure E' vero Però colora molto di più Sì soprattutto Il fatto è quello Eh lo so ma Se gli vai vicino Tutta la rota se la prendono loro E quindi Eh ma se si è lontano Quindi in teoria Come bilanciamento è migliore questo Perché abbiamo Kodomo e Kirenis Che colorano dietro Tu che colori il centrocampo E io che prendo le kill Sostanzialmente E tu che le confermi pure Esatto Sì 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 è così È la cosa migliore Grazie Ok ok È il momento di fare 10-7 ragazzi Forza Bene perché tutto questo allenamento Andrà a puttane Visto che non saremo in squadra insieme Esatto Ma che palle Ma come mai Ha effettivamente poco senso Si stava creando una sinergia assurda Sarà triste allora Colorarvi Esatto Colorarvi Quando giocheremo contro Sabaku Kirenis O Kodomo Piangeremo lacrime virili Ma voi sapete già la strada La squadra? Sì sì In teoria sono già state fatte Ma non me le ricordo Non ti ricordo Non ti sei ok Allora io mi ricordo Tu mi pare che sei Con power No Io so con power Power è capo Quindi non si può Ma Kodomo È leader di lei No no Kodomo ci sta Che sia con power È questo dico Sì sì Vabbè ma tanto c'è power Quindi ragazzi abbiamo già perso Vabbè Magari power spara Ma non colore Che ne sai Magari più che altro power Non usa il joystick Mi viene da pensare No lo usa Con la mente lo fa No nel senso che non è abituato Ragazzi Ragazzi Concentration No no sono più che altro Molto aggressivi Mi stavano per ammazzare Madonna Pensavo di averlo in pugno E invece Cerco di beccare questi Ok non posso avanzare C'è la bomba Qua Ok ho visto quello in ulti Fantastico Mi ci metto dentro Tiro un'altra bomba A scudopoli Ok ho la ulti Più è morto Perfetto Oh questa combo Scudo in tunti E' stata veramente fighissima No donna Ero bloccatissimo Fatto a caso Ok Allora Comunque ora ci stanno Completamente No 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 Gli abbiamo respinti Ragazzi Ah Troppo aggressivo Ok Eh stanno attaccando Ora Allora vado là No merda Ah vabbè ci siamo Fermati a vicenda No Anche io Strambi avevamo capito Ci siamo fermati a vicenda Ok ce n'è uno in base nostra Vedo di fotterlo Ok no c'è codomo direttamente In teoria Sì ci sono Attenzione hanno usato lo scudo Oh c'è l'anche io Ucciso lo c'è Perfetto Sono entrato a scudopoli Anche io lo scudo ora Mi riesco a usarlo Eh l'aerografo Mi porta a morire Molto più spesso Perché Ti avvicini a qualcosa Che non puoi uccidere Quanto pensi Io Però non siamo messi male Perché comunque È un minuto Oh amati Non è perso No Merda forse Troppo Prepotente Che schifo di ulti che ho Cristo Provo a togliere un po' di colore l'oro qui Eh togliamo Togliamo Un'altra ultima No e che cazzo Dai sul serio Merda Fino del precipizio Eh niente Sono morto un anno secondo dopo Mike dal cazzo di granchio di merda Sì ma io mi sono buttato in cinque morti praticamente Una merda So provando a recuperare un po' di hob Ma non ce l'ho Oddio Mi hai spallato tutto Ok buono Devo recuperare tutto ragazzi Per l'amore Si sto recuperando un po' Dai ma chi è questo stronzo qui dietro Se ne arriva qualcuno chiamamelo Guarda Ma loro sono finiti E' qui vicino a noi Ok è morto Ok buono Coloriamo l'ultimo Io ho fatto veramente tutto il possibile Anche io uguale eh Nell'ultima parte ho colorato come se potessi Qualche pezzetto l'abbiamo arrivato No Eh attenzione eh Boni Boni Attenzione Sì Mamma mia ciclioni Mamma mia Signori 9-7 9-7 Si gode Mamma mia signori Siamo su Siamo su Signori Il potere All'ultimo Ok 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 Guarda significa tanto Recupera qualcosa all'ultimo eh Si Soprattutto se li ammazzi E stanno fermi All'ultimo Ragazzi abbiamo goduto eh Si 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 E qui si è fatto del gran godo Madonna Mamma mia E io sono contentissimo Poderoso 7-3 Poderosissimo Proprio quello Allora siamo 9-7 E verosimilmente Questa è l'ultima partita Che riusciamo a fare Quindi Ok Chiudiamo con 10 Chiudiamo con 10 ragazzi 10 Per forza Si 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 Il creatore si chiama Simone Splatoon Se vi interessa Di Splatoon Cosa Ma Si si Simone Splatoon Hai capito un po' come funziona Lo scudo del pennellone Si un po' si Perché lo sto imparando un po' adesso E ho più Bene Reggez È il momento di godo Il Simo il Simo è lui È il momento Oh vittorie consecutive 4 eh No ragazzi Anche loro Si stacca la live quando si perde È il momento Eccoci qua Hanno anche loro 4 vittorie consecutive Cazzo Ok è il momento di dimostrarci superiori Vai Vai chi ti tu qua Io mi sono divertito da morire comunque oggi Si ma Non ho mai giocato uno Splatoon in vita mia Io non così tanto sinceramente C'avevo giù chicchiato un po' Oh ragazzi è uno col pennello che sta incazzato nero ve lo dico Che l'ho visto Si Incazzato giallo Ma il cazzo Oddio 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 C'è il martellone attento Prova ucciderlo alle spalle Pensavo di poter uccidere Mentre si avvicina Oh seccato Seccato No ragazzi non era l'unico Erano due con il martellone Purtroppo Ho visto una sbrettata dietro la mia schiena Ficco ammassato Dai buono No via dietro No ma co ma c'è ma non può far così cagare sta ulti che che il tizio mi mi sceghera il cazzo davanti alla faccia e mi uccide io con un battuta niente dai No No Opre ho ucciso grande Ah toccato Vuole a shotarmi la pippa qua Non è così male Guardate Mike come asserta la dominanza Qua la dominanza Godo 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 ucciso un tizio in ulti Mamma come Godo ragazzi C'è che fai ricoprire un po' di cose qui Edo Mike Perché ancora ci sono delle parti grigie in base Vai vai La base è gialla si Considerate che basta Questo ricarico Mamma mia carriato tripla Bravo Si colora C'è uno dietro Chi ragazzi Ce ne abbiamo uno Già l'hanno fatto sti balordi Neh non l'ho ucciso questo Impossibile Oh l'ho ucciso ma poi sono No l'ho ucciso un'altra Ah erano due Ok ok erano due Erano due A posto Vai Oh la base Sembra a posto Eh oddio non è uno stealth game Aspetta Forea È anche uno stealth game Sto giallo Sto giallo Sto giallo sei in calamaro sei in stealth Sto facendo una grande azione Ragazzi Bravo bravo Michele Così ti voglio a fare le grandi azioni Succa Succa Che li stiamo tenendo push Anche il bomba Esatto No Bombaccio Ma è di tanto Bernale Attenzione a Franco col pennello E ci sta pushando all'indietro Morto un altro Dobbiamo colorare ora Ce la facciamo Oh l'ha splattato Mori Scemo Bene 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 Scemo Scemo Ma quello col pennello Ha preso Ha fatto quello che abbiamo fatto Nella fine partita Potrebbe farli vincere Quello col pennello Ha fatto un casino qua No Ah no no Ho perso Ma ora è anche morto Quello col pennello Bravo Bravo Ho c'ho la ultima Ragazzi lo vediamo Che succede Ragazzi No no Dieci sette ragazzi Dieci sette Vediamo Lezzi Secondo me Dai ragazzi Secondo me c'è ancora Un'ultima partita Dai dai Cioè possiamo fare Undici sette E proprio andare nel godimento Undici sette È veramente qualcosa Che vorrei vivere Franco col pennello Ma non è soltanto Undici sette È anche sei vittorie Consecutive Madonna Mike No io sono seriamente dispiaciuto Che non giochiamo insieme No secondo me Gli spaccheremo il culo Perché con l'aerografo Cioè siamo entrati nella zona Sì 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 Grazie Black Esiste Cioè avete qualche Ulti Perché ho visto che ci sono Delle ulti tipo col rampino Che ti permette di saltare Proprio Guardate Guardate Mike come ha switchato Mamma mia Il di prima Ma adesso ci dà Un color power Devastante È tutto giusto Guardate questa schermata Io sopra In kill a tutti gli altri Che è come devo essere Sì è vero È vero Perfetto Perfetto Madonna Stiamo giocando dal Cristo Abbiamo trovato la nostra posizione Come si fa a cambiare le squadre del torneo? Qual è il menu per farlo? Allora Ti passo lì Banna tranquilli Ah perfetto Grazie Grazie No dobbiamo trovare il modo ragazzi Non c'è verso Cioè mandiamo una raccomandata Una lettera Non lo so Un dick pic Per chi altro siete voi che siete due leader Dovreste smettere di essere leader Dai Mike vuoi essere il mio leader? No vieni qui Non ho risposto mi sa che Mike non vuole essere il mio leader No Però chi ta c'ha consente quindi Esatto Ci dicono anche in chat che Non stiamo andando affatto male E ce lo dicono dei veterani Piano piano Dai piano piano Vedi ci vuole un po' di Di pratica Ok Facciamoci sconfiggere Ok No No ragazzi È putente Cioè Piano piano Ci facciamo un pezzetto di base così Tac tac Oh mio dio Eh Ok Non sono vivo Tu che coglione Scusate Ti piace il cecchino eh Ok Tabula nasa Mamma mia Mamma mia Ragazzi Non voglio smettere di giocare Siamo nel godo No ma perché c'era un tizio che mi voleva ammazzare Alla fine l'ho ammazzato io di ulti È stato bene Esatto Ma è che attento che c'è uno che ci sta ficciando in testa Ormai ci siamo qua Sì l'ho visto l'ho visto Ma guerridi Di tanto ci urtiamo Sì esatto Mentre spennelliamo Urtiamo i pennelli Ops Perché nel pennello No No stavo arrivando io assupur Cazzo ho fatto una cosa È lo scudo usalo Ah dov'è Eccolo ce l'ho io Ok È là Ma che cosa sta colpendo Ah il loro scudo Cazzo Ne avevano anche uno loro Eh ce l'avevano uno loro Eh vabbè vabbè niente Eh vabbè Madonna che goduria ragazzi No Via 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 Vai via via Brava Ti aggiungo No ce l'ha fatta con il milizio Attenzione Cos'è che hai fatto al mio amico Sabacu Cos'è che hai fatto Levati Eh cos'è che hai fatto Davide al mio amico Sabacu Grande Eh coglione Alla base Perfetta mi sa La base dovrebbe stare abbastanza bene Non ho visto Io so a Cusciopoli eh Anzi io sono a Perendopoli Cosa Sì sto in alto In alto No la carnata No Ho preso proprio la zona del go Ma chi era questo Ah sta arrivando uno che ci sta riprendendo la base Fermi fermi Oh ci sta uno stronzo qui che sta a fa un po' troppo lo spiritoso eh Ci penso io ma Occhio Ok ci sono stato apposta Oh ma chi è che sta sparando Mi ha visto È buono Dovrebbe riuscire a prendermi così Eh invece sì Ma quanto cazzo gli dura ragazzi io c'ho tre colpi e poi mi devo ficcare l'arma nel culo Questo con il granchio 40 minuti Infatti sì eh No Sono scarica Su Ok Almeno È ammazzato grande Perché manca Merda il cecchino che ha preso Mi fidavo della sua imprecisione Mi raccomando riempite Il più possibile Eh sì È stata combattuta non lo so eh Vediamo Oh merda sono scarica Vaffan No l'ultima Ha ucciso io Hanno fatto Se l'ultimo Scrizzetto di cecchino rompe il cazzo Eh hanno fatto un po' di sprint No no mi sembra che abbiamo colorato meglio la base Abbiamo vinto È vero Sì Il godo Il godo Mamma mia 11-7 Tutta blu Manca un puntino Grigio Ma ragazzi Bravi GG Siamo a sei vittorie di fila Cosa facciamo Mamma mia ragazzi Qua veramente Vogliamo provare ad arrivare a dieci vittorie No cioè io non me la sento di chiudere Sono sincero Vai vai continua Alla prima sconfitta e chiudiamo Ma potenzialmente potremmo non staccare mai più Visto che si chiude Considerando quanto cazzo siamo No ragazzi Altro lato io ho messo fine perché premiamo a spam No bro No Sono un bastardo Vabbè rifarla comunque ci sono Aspetta 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 Ah non posso Non posso Eh no 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 E non voglio non voglio cercare Eh non possiamo però annullare mi sa sai Eh no Così perdiamo le fila Ah quindi ora non contano più le No raga faccio schifo mi odio No bro hai rovinato tutto Hai rovinato tutto Eh non siamo più amici Ho premuto a spam Vabbè adesso inizia Ecco era tutta l'or per poi diventare nemici Ora stesso Esatto Eh vabbè ma allora noi cresciamo insieme No E me frega Oh no Ho trollato raga Era tutta l'or Ma c'è la conta ancora come vittoria di fila Se non ne ho idea Se cambiamo Se cambiamo lobby no Se cambiamo lobby Secondo me se non c'è la conta ancora secondo me Sì E proviamo Secondo me sì Siamo Se non vede giocate ancora insieme Eh ma per uscire devi chiudere il gioco No ma infatti io non esco No se non quittate la lobby giocate ancora senza me secondo me continuo Sì ovvio che conta Così conta Eh non posso Eh però è dura Entri No non puoi perché siamo già cercati Io non posso smettere di cercare Io non posso smettere Vi faccio il tifo da lontano Quanto siete forti Allora se ce la tiene questa qui è l'arc dello shonen nella quale si separa la ciurma Sì ce le tiene Dobbiamo vincere per Kirenix Vai ragazzi Io pulisco la base Chi è che sei Ma scusa eh Tu non sei comunque dentro però come funziona Eh no perché ho quittato Ma perché prima cosa mi ha messo su fine Sì però poi io metterò che non andiamo in coda no Guarda essendo così importante cercherò di Coprire tutta la base più possibile Delle volte O fa la differenza sta cosa Vabbè proverò un po' di armi Ok ok l'ho ucciso Mike Grande Il cecchino O la ultima Attento c'è il cecchino da sopra eh Ero visto l'ho visto Facciamo Facciamo Ruggero la giro Aspè bravo Io non riesco a salire più su Come mai E mo E mo si ulta Ma la mappa è sempre quella Eh se n'è andato Attento al cecco Mi sono riabbassato Ma anche perché c'è il cecco Che c'ha la super afferenda Cazzo mi sta inseguendo Il cecco Io non ho il cecco Lui ci prova Non è bravo a mirare quell'altro Io no 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 È lento Di tutto sto a pitturare Un cecco bravo Ma avrebbe ucciso 47 volte Infatti penso di poterlo punire Oddio Bene Ah massa Erano i due contagi L'ho ucciso però Non è male il secchio Il secchio Impossibile uccidere Con questa cazzo di ulti Ragazzi quanto mi girano i coglioni Qua ragazzi sta uno stronzo Che sta Dai zio banano Ci sta uno stronzo Che Matto Merda Che bordello regà Vabbè Merda Eh vabbè normal Non voglio dire che spero Perché fate senza di me Però 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 Io il cecchino Ma che cazzo vuole Non credo succederà Secondo me Ce l'abbiamo Non in pugno Ma Però si può fare Sì sì Non è d'accordo Esatto Eeeh Ricarica merdosa E' proprio un grafted di merda Hai capito Questi sono bravi Questa parte qua Non è stata pitturata Non so come cazzo Arrivarci ora Madonna Cazzo Dai andiamo insieme Andiamo insieme Regà Oh scudino M'ha ammazzato Attenzione C'è la ultima Ah c'è un martellone Della madonna Minchia ma quanto dura Ma non Non nell'ultimi Dieci secondi Cazzo No Non può fare L'ultima Negli ultimi Dieci secondi Qua non era fatta Colora 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 Non ci fosse un domani Perché non ci sarà Altrimenti Non c'era mai arrivata Qua sopra Abbiamo preso il sesso Reggez Sì Peccato Perché guarda L'abbiamo persa lì nel mezzo La partita Potrei essere io Eh ma poteva andare meglio L'ulti del tipo Però sì ovviamente anche tu Sei stata la differenza Tirenis diff ragazzi Questo ci insegna Mi teletrasportavo sempre sotto Eh lo so Ci sta Vabbè vabbè Eravamo in tre poi Che fate ora? Allora io credo Di rimanere ancora un po' Ma intanto vi saluto Ok ok Perché io sono troppo Nel godo per smettere Ci sta Devo andare avanti Io sono veramente nel godo Se voi andate Vi saluto Io vado Ma è stato un piacere Una figata Io potrei farne Vabbè 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 Allora Rimani Tu che fai Chiara Tu vai Io vado Devo riuscire purtroppo Se no avrei continuato Vai vai Io ho un altro paio Le devo fa Vai Allora faccio fine Stai troppo Che fai Che sto troppo gasato Anche mi sta piacendo parecchio No molto carino Veramente divertente Grazie mille ragazzi Grazie a voi ragazzi Mi sono divertito un mondo Grazie Veramente divertente Ciao Ciao ragazzi Ci vediamo alla prossima Ciao Alla prossima Al torneo Al torneo Purtroppo dove saremo nemici A presto Eh già Ciao ciao Bibi Ragazzi Che figata È stato veramente un piacere Non posso Non posso Sono bloccatissimo Ma Questa Questa è una nuova live Che si intitolerà Expertise Come quando Accadde con Fall Guys Fighissimo Fighissimo Veramente Fighissimo È stato bello Ragazzi È stato bello È stato bello Assolutamente E Dai Vi faccio fare un raid A froze Che anche lui sta giocando Parliamo di videogiochi Si sta giocando Splatoon E Via Sì È il froze Sbagliato Scusate Ora è giusto Non so Ok Fantastico ragazzi Grazie di tutto Alla prossima Stupendi A Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti.